che non vorremmo dare le donne che te lo vedo? signora mi sembra la cantante di viola con i coppi c'erano altri? allora questo mi fa pensare buono no ma tanto io non metto qui abbiamo un buon e un bicchiera non lo faccio non lo faccio tutto non lo faccio non lo faccio ragazzi i droni dispostati ok poi abbiamo un inscriviti separati non lo faccio non lo faccio non lo faccio è difficile tanto il pane non lo faccio ma questo è quello che non lo faccio 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.